Buoni amici, i computer portatili sono attrezzature essenziali per la nostra vita quotidiana, ma qual è il miglior portatile sul mercato? In questo video, vedrete 5 modelli con prezzi adeguati in base alle loro caratteristiche tecniche, in modo da poter decidere quale comprare. Nella descrizione e nel primo commento hai i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le opinioni e le offerte disponibili. Sei pronto? Iniziamo! Nella top 1, Acer Chromebook 314. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, che di solito è intorno ai 280 euro. È una macchina sottile, con uno schermo HD da 14 pollici di alta qualità e durata. Questo portatile è equipaggiato con una scheda RAM da 4 GB e un controller multimediale integrato da 32 GB. Ha una connessione Wi-Fi 5 e una durata della batteria di 12 ore, che ti permette di fare il tuo lavoro senza preoccuparti del caricatore. Inoltre, è molto leggero, solo 1,7 kg che si può portare in qualsiasi borsa o zaino. Si distingue per le sue quattro porte di connessione USB e lo slot per schede SD. Tempo di avvio veloce di 8 secondi, interfaccia intuitiva e protezione integrata contro i malware che uccide i virus. Ha l'ultimo processore Intel, che garantisce la reattività del software e un basso consumo energetico. Le sue prestazioni extra permettono progetti grafici più fluidi e attività in classe più veloci. In breve, un computer portatile molto completo, che ha la valutazione positiva di più di 470 utenti, e quindi, possiamo solo raccomandare il suo acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Chiawee, Gemibook 13. Continuiamo con un modello economico di una marca che si sta facendo strada nel mercato, come Chiawee. Questo modello, che si può trovare a meno di 400 euro, ha uno schermo da 13 pollici e un involucro in lega di alluminio e magnesio, pesa solo 1,28 kg ed è spesso 18 mm. Un computer con Windows 10 incluso, 12 GB di RAM e 256 GB di disco a stato solido per gestire le tue attività quotidiane di base. Ha un processore Intel Cellron a 4 core, con un'eccellente capacità di elaborazione grafica e supporto video 4K, con risoluzione HD. Dispone anche di una funzione di ricarica rapida, grazie alla sua batteria agli ioni di litio, che fornisce energia fino a 9 ore. Questo portatile ha un'interfaccia USB Type-C con funzioni multiple, supporta la trasmissione di audio, video, dati e ha una ricarica veloce. La sua velocità di navigazione si distingue, con una trasmissione di 1,8 GB al secondo, in 5G. Inoltre, la sua tastiera retroilluminata offre una migliore visibilità, con una valutazione di 4,1 su 5 stelle, e il prestigio del suo marchio, fanno di questo portatile uno dei migliori, per il suo rapporto qualità prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Teclast, F15S. Entriamo nella fascia media con uno dei marchi rivoluzionari del mercato. Teclast, ci offre una qualità a basso costo nei suoi prodotti. Osserviamo un portatile da 15,6 pollici, che ha 6 GB di RAM, e 128 GB di disco SSD. Questo modello è fatto di materiale metallico, ed è spesso 7 mm. Pesa 1,8 kg e ha una risoluzione Full HD. Ha anche un processore Intel Dual Core veloce, con una frequenza massima turbo fino a 2,4 GHz, e una scheda grafica HD Graphics a 500 Core. Ha un'alta velocità di trasmissione, attraverso la sua connessione Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2. La sua batteria da 3800 MW all'ora ti dà il tempo necessario per il tuo lavoro. È possibile collegare altre periferiche con le sue due porte USB 3.0 standard, e l'uscita mini HDMI, audio e video, ad alta definizione. Porta a casa questo modello e scopri un nuovo modo di godere di un piccolo e potente computer. Il suo design, la connettività e il prezzo lo rendono la migliore opzione nella sua gamma. Nella top 4, HP-15S. Se il design e la velocità sono fondamentali per voi, questo modello HP, per meno di 600 euro, può essere un ottimo acquisto. Il suo design leggero con cornice e microbordo, e il suo schermo da 15 pollici Full HD antiriflesso, lo rendono un portatile ideale per qualsiasi lavoro. Questo portatile ha un processore Intel Core i5 a 4 Core, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Ha una lunga durata della batteria per un massimo di 7 ore di utilizzo in interrotto e la tecnologia HP Fast Charge per un minor tempo di stand-by. Il suo touchpad di precisione integrato con supporto multitouch accelera la navigazione e la produttività. Multitask e goditi il gioco, grazie alle prestazioni fornite dalla sua RAM DDR4. Con una valutazione di 4,2 stelle su 5, è una buona scelta per gli studenti, e con l'approvazione di più di 150 utenti che lo hanno già provato, ne consigliamo l'acquisto. E infine, nella top 5, Asus Gaming F15. Se sei molto esigente con il tuo computer portatile, questa opzione ad alte prestazioni è un best seller. È progettato per i giocatori, con un display IPS da 15,6 pollici full HD, un potente processore Intel Core e la scheda grafica iOR per un gioco fluido, anche in streaming. Ha una batteria che offre fino a 12,5 ore di uso continuo, e grande resistenza a cadute, vibrazioni, umidità e temperature estreme. Ha una porta USB 3.2, che supporta DisplayPort, per collegare un display secondario. La porta HDMI supporta la risoluzione 4K, che funziona senza problemi grazie ai suoi 16 GB di RAM. Ha una tastiera con retroilluminazione RGB e tasti che supportano più di 20 milioni di battute. La tecnologia DTS X Ultra offre un suono surround ad alta fedeltà e 8 modalità regolabili con l'equalizzatore. Ha un design antipolvere che mantiene il raffreddamento nel tempo, e con il suo Wi-Fi 6 Intel, si può giocare ad alte velocità in modo affidabile. Da Best Top, raccomandiamo questo computer ad alte prestazioni, per l'uso da parte di giocatori o professionisti che richiedono un computer potente. Hai domande su qualche modello? Scrivete nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!